per la GS Valgerola, no no tu non ti devi scusare abbiamo sbagliato noi per la GS Valgerola abbiamo Gabriele Sutti Gabriele Sutti, eccolo qui ce la possiamo fare, ce la possiamo fare quinto per l'Atletica Gavirate Carlo Bernardini, eccolo qui e siamo sempre in Lombardia, siamo sempre in Lombardia quarto per l'Atletica AS Premana Francesco Gianola ok, allora andiamo sul podio, andiamo sul podio Lombardia terzo per la Cuspo Patria Milano abbiamo Federico De Marchi eccolo qui, Federico De Marchi secondo Lombardia per l'Atletica Riccardi Milano Thomas Colombo Riccardo ce la fai, è sul podio? primo per l'Atletica Gavirate Lombardia abbiamo Riccardo Ambrosio perfetto, bravo Riccardo, resiste ancora un attimo chiamo però, perché ne eravamo già chiamati qui e mi dispiace come primo assoluto e quindi prendo la medaglia 5 mulini non il feed a Lombardia per la Verbagno Cusio Osso la Sport Project Pietro Ruga lo facciamo salire anche noi bravo, sul perdino più alto del podio ok, e faccio comunque salire perché era quarto assoluto quindi gli diamo la medaglia di bronzo quarto assoluto, sempre per la Sport Project Verbagno Cusio Osso Cristian Piana dovremmo essere riusciti a farcela bravi a tutti, sia ai Lombardi che ai non Lombardi la 5 mulini come sapete è internazionale quindi noi cerchiamo di premiare tutti stringetevi un po', stringetevi un po' ragazzi